ciao Alberto dove andiamo di bello oggi? ah non andiamo molto distante facciamo un breve filmato perché devo caricare una canzone dall'archivio delle catene registrata per caso nel 1966 è un successo di un gruppo americano che si chiama McCoy's e la canzone è come on let's go sentirai che roba non siamo mica noi che suoniamo è l'eco della chiesa che suona dopo la carichiamo va bene Alberto ok ok e come on come on let's go non mancare tu vieni andiamo a ballare e come on let's go compagni a me vieni tu vieni tu vieni e come on come on let's go non mancare tu vieni andiamo a ballare e come on let's go compagni a me vieni tu vieni tu vieni quel vicino che hai e come on let's go non mancare tu vieni andiamo a ballare e come on let's go non mancare tu vieni e vieni il vieni tu vieni e come on let's go compagni a me vieni e come on let's go compagni a me vieni tu vieni che non, che non, che non, che non, che non... che non, che non, che non, che non, che non...